Questa medaglia è quando l'uomo si ricorda che è figlio della Terra e quindi ama il prossimo. È una mano che regge un cuore con i battiti cardiaci che aiutano la situazione. Io ho fatto la faccia nella quale si viene rappresentata l'uomo che ha le radici di un albero. Quindi appunto il significato è lo stesso disegno. Noi abbiamo le nostre radici nel pianeta, quindi nell'ecosistema stesso. Perciò è importante prendercene cura. Sono stati ancora una volta gli studenti dell'indirizzo Aurafi dell'Istituto Professionale Margaritone ad ideare e realizzare la medaglia che sarà regalata a tutti i bambini che parteciperanno al mercatino dei ragazzi del Calcit. È sempre un momento molto importante per la loro crescita, sia da un punto di vista scolastico ma anche di esperienza lavorativa. Comunque il Calcit rappresenta la città di Arezzo, quindi sono molto soddisfatta di quello che abbiamo realizzato grazie anche all'aiuto degli altri miei compagni di classe. La settantesima edizione della manifestazione è in programma per domenica 12 maggio. Nella zona Eden oltre 250 banchi e circa 400 ragazzi accompagnati da altrettanti genitori per raccogliere fondi da destinare al servizio escudo, cure domiciliari e oncologiche. Visto anche la buona giornata che si preannuncia, penso anche con tanti visitatori, perciò confidiamo in un buon incasso. Naturalmente ringrazio il Calcit come al solito per questa iniziativa e soprattutto anche per lo scopo dell'iniziativa che è quello di finanziare la ricerca e la cura dei malati oncologici. A produrre mille esemplari della medaglia come ogni anno un'azienda retina del territorio. È sempre bello essere vicino alla città, essere vicino al Calcit e soprattutto come ex studente di questa scuola sono particolarmente affezionato a quello che fanno e a tutte le iniziative per valorizzare il loro lavoro. Questa è un'eccellenza retina che va mantenuta e valorizzata.